Oggi probabilmente è stata una partita più vera, anche perché la San Giovannese è stata più avversaria rispetto a quello della prima giornata. Sì, anche se aveva 4 assenze e anche 5 importanti rispetto alla San Giovannese, abbiamo incontrato un campionato, però è stata una partita vera, perché i cambi che hanno messo e anche i due malese che avevano erano di livello. Però abbiamo sbloccato la partita sull'indecisione delle loro portiere, poi abbiamo raddoppiato con una bella palla recuperata e dopo abbiamo gestito bene la partita, rischiando quasi nulla. Certo, anche perché nel secondo tempo la squadra ha continuato a macinare il gioco. Sì, la squadra ha continuato a ripartire da dietro, senza problemi, non ha dato opportunità ai avversari di rientrare in partita. Di questo sono contento anche, soprattutto, che chi è entrato aveva lo stesso spirito e la stessa voglia di chi ha giocato prima di lui. Quindi a questo punto è già tempo di pensare alla semifinale di questa... No, no, a questo punto c'è la terza partita con la Tusca, che è una squadra ostica e poi penseremo alla semifinale. Ok, grazie. Grazie a tutti.